Ok ragazzi, prima di iniziare con questo nuovo episodio delle GG News, devo fare una gigantesca premessa. Le notizie che stiamo per andare a trattare sono notizie uscite da una fonte anonima. Quindi non sono leak, non parliamo di file di gioco, non parliamo di fonti attendibili al 100%, bensì di una fonte anonima. Quindi potrebbe averle dette chiunque queste cose, potrebbero essere tranquillamente delle teorie, tra l'altro delle teorie molto fighe, altrimenti non ne avrei neanche parlato, ma calzano talmente bene con la trama di Fortnite e sembrano talmente veritiere e anche abbastanza fighe che ho deciso di farci un video, anche perché probabilmente, essendo fuori uscite ieri, ovvero domenica, in questi giorni se ne parlerà tantissimo e quindi io già ne volevo parlare, dato che molti di voi sicuramente me lo chiederanno. E quindi ricordatevi però che sono delle notizie appunto da una fonte anonima, quindi non sappiamo chi sia, possono essere tutte bufale. Io ve l'ho detto, però dato che appunto sicuramente me l'avreste chiesto, ne parliamo. Tra l'altro andremo a parlare sia dell'evento finale, ma anche della stagione 3. Quindi se avete paura che effettivamente tutto questo sarà vero e non vi volete spoilerare nulla, chiudete il video. Io vi ho detto tutto quanto, vi ho messo già le mani avanti, quindi direi che possiamo iniziare. Anzi, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, perché ogni due settimane il codice scade e dovete ne inserirlo. Grazie avvero di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Lasciate anche un bel mi piace se ancora non lo aveste fatto, subito e immediatamente per supportare le GG News, anche perché nei prossimi giorni usciranno un sacco di approfondimenti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, proprio per non perdervi i video degli approfondimenti. Adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok ragazzi, allora, spero abbiate compreso al 100% le premesse che ho fatte all'inizio del video. Non vorrei che nessuno ci rimanesse male per delle notizie che appunto riporto in un mio video. E anzi, a questo punto chiederei a voi delle teorie sotto nei commenti, dato che a questo punto le notizie di cui stiamo per andare a parlare potrebbero essere prese tranquillamente anche come vere e proprie teorie. Anche se, vi devo dire la verità, quando si parla di fonti anonima e le notizie che riporta sono particolarmente interessanti, ma soprattutto calzano perfettamente con la trama di Fortnite, di solito si rivela tutto vero. Quindi non vi dico di credere al 100%, ma io ci credo abbastanza e abbiamo anche qualcuno che è atterrato qui. Ma mi spieghi perché sei atterrato qui, amico mio? No, ricognitore. Ho visto un'arma blu, dico dai, almeno abbiamo un'armetta blu. Invece niente. Spero che non si stia shieldando. Oh, mamma mia, che belli i pump, ormai che fanno 100 sul corpo se hai presi bene. Che bello, ragazzi, che bello. Oh mio Dio, qualcuno con il ricognitore? Oh, non ci posso credere, c'è qualcuno anche qui. Neanche una volta. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Allora, regà, è one shot praticamente. È one shot, regà. No! No, regà, lo vado a uccidere. Lo voglio uccidere, lo voglio. Dove è andato? Eccolo qui. No, lo voglio uccidere ormai. Cioè, è one shot, che faccio? Lo lascio così? E no, che non lo lascio così. Guardalo, guardalo, che sta andando? Verso gli altri rift. Che verso di là, mi sai, ci sono altri rift, ragazzi. La safe, tra l'altro, è dall'altra parte. Sì, sta andando a prendere altri rift, non ci credo. Amico mio. Eh, dai, su. Cioè, dove te ne vuoi andare? Mo' vabbè che vabbè, eh. Ma che volevi farti? Tutta la mappa? Vabbè, a questo punto luto qui, regà. Dicevo, quando la fonte è anonima e le cose che dice calzano così bene con la trama, eh, solitamente poi si rivela essere tutto vero. L'abbiamo visto anche in passato quando altre fonti anonime hanno detto cose, annunciato robe e... Vabbè, vabbè. Comunque, parliamo immediatamente di tutto quello che sappiamo. O meglio, che questa fonte anonima ha detto. Le sorelle sono traditrici e forniranno all'OI informazioni importanti. Allora, partiamo dal presupposto che queste sorelle già ci puzzavano sin dall'inizio. Questi vuoti di memoria, Geno che cancella tutto quello che riguarda le sorelle. Fatalità sapendo, le sorelle inteso, che i sette stavano iniziando a smanettare sui file dell'ordine immaginario, sembrava una cosa un po' fatta ad hoc della serie che le sorelle magari hanno avvertito l'ordine immaginario, che i sette stavano smanettando nei loro file e quindi hanno cancellato quei file un po' più sensibili, tra virgolette, che riguardano proprio le sorelle che, tecnicamente, a quanto ne sappiamo da questa fonte anonima, sono proprio delle traditrici, sostanzialmente. Poi, andiamo avanti. Il dispositivo ha un aspetto molto diverso dall'altro dispositivo del capitolo 2. Allora, diciamo che questa cosa me l'aspettavo, anche perché farla uguale mi sembrava una roba anche abbastanza ripetitiva, quindi ci può stare che sia diverso. Tra l'altro, andando avanti poi nelle notizie che ha tirato fuori questa fonte anonima, ci spiega anche cosa andrà a fare e, regà, cioè, preparatevi a mettervi le mani nei capelli, ma... Vabbè, andiamo avanti. Sembra che i sette non riusciranno a fermare l'ordine immaginario. Allora, io, in una scorsa GG News vi avevo detto, o non riusciranno a fermare lo I e quindi si andrà avanti con questa guerra dopo i colpi di scena che ci saranno, ed era questa la mia ipotesi, oppure in qualche modo entrerà in mezzo la regina e quindi vedremo già la regina, anche perché comunque vi ricordiamo che la regina in qualche modo dovrebbe tornare durante questo capitolo 3 e quindi anche lì staremo un attimino a vedere che succede. Però appunto, secondo questa fonte anonima, non riusciremo a sconfiggere l'ordine immaginario, probabilmente e ovviamente aiutato dalle informazioni delle sorelle, e quindi probabilmente almeno per un'altra stagione continuerà questa guerra con l'ordine immaginario, oppure verrà semplicemente rimandata e adesso tornerà un attimino la regina. Staremo a vedere anche qui. Molti punti di domanda comunque abbiamo, ragazzi, anche perché questi saranno colmati solo nel momento in cui vedremo effettivamente le cose accadere e magari i fumetti che dovrebbero essere in uscita proprio a giugno ci andranno a rivelare delle cose molto importanti. Fonti ufficiali di Epic ci hanno già detto che seguire i fumetti sarà fondamentale per la trama e quindi mi aspetto che lì ovviamente ci siano tantissime informazioni interessanti. Detto questo, andiamo avanti. Il dispositivo assorbirà l'energia della tempesta e si surriscalderà. Questo provocherà un'esplosione. Ora, non c'è evento finale senza esplosione, quindi fino a qui diciamo nulla di troppo clamoroso. La cosa clamorosa è che assorbe l'energia della tempesta, mentre ci ricordiamo che il dispositivo di Mida serviva a respingere la tempesta, come se Mida volesse fermare questo ciclo continuo della tempesta, uscire dal loop per poi chissà fare chissà che cosa. Invece qui vediamo un dispositivo, vedremo, probabilmente ricordo che potrebbe essere tutta una gran cavolata, tutte grosse bufale, però potrebbe essere che il dispositivo andrà ad assorbire sostanzialmente la tempesta e a un certo punto collasserà creando questa esplosione. Adesso andiamo a vedere cosa provocherà questa esplosione, ragazzi. Ma prima di andarla a vedere, perché le cose che provocherà le vedremo forse probabilmente da quello che dice questo leaker, o no, non è un leaker, scusate, questa fonte anonima, le vedremo durante la stagione 3, perché un'altra cosa è che durante l'evento vedremo la Sloan parlare con qualcuno in un flashback. Non si vedrà, ma la Sloan sembrerà spaventata. Nei commenti del canale spoiler di Fortnite News, perché il canale Telegram di Fortnite News che segue appunto per le notizie e quant'altro di Fortnite League, eccetera, eccetera, ha anche un canale spoiler dove appunto riporta queste notizie per non spoilerare a quelli che non vogliono che sia spoilerata la trama, le cose e tutto quanto. Comunque qui ottimo loot. Direi che ci andiamo poi un attimino a riprendere la vita così e via. Molti appunto stavano già ipotizzando che potesse essere Geno. Tra l'altro appunto... Ma c'è qualcuno fuori safe qui? C'è qualcuno qui fuori safe, ragazzi. Attenzione, attenzione. Dicevo, Geno, che sappiamo dalle sfide ufficiali di questa stagione, è colui che ha cancellato di fatto i ricordi. O meglio, no ricordi, scusatemi. Poi probabilmente pure per i ricordi c'entrerà qualcosa, però... Vi immagino ovviamente parlo, però è colui che ha cancellato da quello che dice Jonesy i file delle sorelle dai file dell'ordine immaginario. E Jonesy è rimasto particolarmente stupito. Quindi anche lì staremo un attimino a vedere che cosa succede, perché è abbastanza ambigua anche tutta questa situazione con Geno. Ah, proprio così sulla torretta questo sembra. Ah, che poi c'è pure la sfida, mi sa, con la torretta. Quindi a maggior ragione lo sta utilizzando questo qui. Ok, ora che mi hai trovato cosa puoi fare? No, l'ho lisciato! No, 115 regalo, l'ho lisciato, un peccato. Vabbè, abbiamo fatto una partita per quanto riguarda gli spoiler dell'evento finale. Adesso facciamo un'altra partita e parliamo della stagione 3, perché da adesso partono appunto le notizie riportate da questa fonte misteriosa anonima sulla prossima stagione 3, che tecnicamente, a quanto dice questa fonte anonima, dovrebbe poi spoilerarci alcuni risultati dell'evento finale. Dopo capirete di cosa sto parlando. Beh ragazzi, partiamo invece con queste fantomatiche notizie sulla stagione 3, quindi la prossima nuova stagione. Quasi tutta l'acqua scomparirà, regà. Quindi abbiamo visto col capitolo 2 come Fortnite ha inserito la meccanica del nuoto, quindi dell'andare a nuotare della pesca. E adesso in questo capitolo 3 non dico che abbia intenzione di togliere l'acqua, perché secondo me potrebbe anche essere una cosa sbagliata, ma gran parte dell'acqua a questo punto potrebbe essere tolta. E potrebbe aver senso, anche perché, come vedete, l'acceleratore ha prosciugato, non so se ci avete fatto caso, ne avevamo parlato anche in una GG News scorsa, l'acceleratore ha prosciugato praticamente questi due fiumi qua, come vedete. Quello che partiva appunto dal lago e andava nella zona in alto a destra della mappa. Il resto è rimasto tutto uguale, però se andiamo a nuotare, per esempio, tutto il lato destro della mappa già è stato privato dei fiumi in cui si poteva nuotare. Quindi anche questa non è una notizia tanto campata lì per l'aria. Cioè per questo vi dico, regà, che ste notizie sembrano calzare veramente molto bene con la trama di Fortnite e con quello che potrebbe accadere. Poi bisogna capire un attimino in che modo verrà prosciugato tutto il fiume, tutto il lago e tutto quanto, però insomma potrebbe accadere effettivamente. Poi la stagione si chiama Drought, ovvero Siccità, e giustamente mancando l'acqua avremo la Siccità, che poi questo potrebbe essere messo poi in contrapposizione con quello che abbiamo avuto invece durante la stagione 3 del secondo capitolo, dove invece c'era acqua in tutta la mappa. Vi ricordate, no? La stagione di Aquaman, che praticamente la mappa era tutta completamente piena, zeppa d'acqua. Bene, avremo l'esatto opposto. E secondo me ci può stare anche proprio come ragionamento. Cioè Epic dice, nell'altro capitolo abbiamo portato una stagione dove sostanzialmente c'era l'acqua dappertutto, invece adesso mettiamo la Siccità. Sarebbe un modo per correlare anche i due capitoli, perché comunque fino adesso abbiamo sempre visto una sorta di correlazione da un capitolo all'altro, solo che in maniera opposta, che può comunque risultare interessante, se vogliamo, da un certo punto di vista. Tra l'altro la tempesta sarà rossa e si tratterà di un'ondata di calore. Quindi non sarà più tipo una nube tossica, o quello che è insomma attualmente, ma sarà semplicemente un'onda calda, tra virgolette. Cioè una tempesta, letteralmente una tempesta di calore, che ci brucerà. Un po' macabra come cosa, però sarà quello sostanzialmente. Potrebbe essere quello, ribadisco, che potrebbe essere tutta una grandissima bufala, questo di cui stiamo parlando. Io ogni tanto ve lo ricordo, eh. Poi il vulcano tornerà e ci sarà un personaggio ad un certo punto, non Indiana Jones. Che molti già stanno iniziando a pensare magari ad Indiana Jones. Ovviamente, ragazzi, il vulcano, l'ho già anche detto in passato, è abbastanza scontato che torni prima o poi. Io credo che a un certo punto toglieranno il Daily Bugle e andremo a vedere il classico vulcano, che potrebbe già arrivare dunque con questa nuova stagione 3. Quindi immaginatevi, l'acceleratore che esplode, succedono cose, il vulcano si riattiva per qualche motivo, anche proprio durante l'evento finale, e quindi durante la prossima stagione avremo questa onda calda che sarà, diciamo, la nuova tempesta e il vulcano che si riattiva. Effettivamente torna tutto in realtà. Ma continuiamo, ragazzi, perché sulla terza stagione ce ne stanno tante altre di notizie, eh. Ovvero, l'area intorno al vulcano cambierà completamente, quindi ci viene ancora più da pensare che succederà qualcosa intorno a quella porzione di mappa. Quindi qualcosa di grosso che riattivi effettivamente il vulcano e che vada un attimino a modificare tutta quella zona. Tra l'altro per le catastrofe e queste cose prendono sempre questa zona qui. Vi ricordate anche la stagione dei supereroi con la base di Iron Man che si è elevata proprio lì, che ha cambiato tutto? Ecco, probabilmente succederà una cosa del genere, eh. Ci saranno molti stili di lava delle skin attuali, poi già come se non ci fossero, già ci sono un bel po' di stili di lava per le varie skin, però evidentemente ce ne saranno ancora di più. Molto fighi, tra l'altro, gli stili di lava. Comunque, ragazzi, io direi di provarci a fare questo lama qui, eh. Se riesco a non farlo impazzire, tra virgolette. Certo, c'ho il pump e l'MK con pochi colpi, eh. Ma come non so... Non entrano più i colpi... Ah, sì che entrano i colpi in headshot, ragazzi. Stavo per dire, non entrano più i colpi in headshot. Allora. Non andare in acqua. Non andare in acqua, signorino. Eh, niente, è andato in acqua. Oddio, però in acqua potrebbe anche essere più facile colpirlo. Sì, sì, no, vabbè, in realtà ci può stare come cosa, ma... Ah, shieldone, bla bla bla, i colpi materiali ce li siamo fatti e va bene così. Ci sarà una skin maschile craftabile nel pass battaglia. In realtà è una roba che abbiamo visto spesso e volentieri durante le ultime stagioni, ovvero abbiamo visto magari deltaplani craftabili, abbiamo visto proprio anche già skin craftabili. Ne abbiamo viste di tutti i colori, in realtà, già da questo punto di vista. Mi hanno provato a sparare da lì. Sì, ragazzi, è dietro quell'albero. Ahia. Aveva iniziato con una mira pessima e è finito col distruggermi, praticamente. E ha finito col distruggermi. Va bene. Sta arrivando anche con la macchina, mi sa, probabilmente. Però anche noi gli abbiamo fatto un bel po' di danno, quindi forse se n'è andato. Oddio, sto corvo mi ha fatto prendere un colpo. Io in realtà a questo punto direi che mi vado a prendere delle cure che avevo lasciato lì con il lama. Oh no, c'è una macchina qui, però. Mi sa che si sta andando a prendere proprio... Oh no. Oh no. Vattene, vattene. Mamma mia, sì, se n'è andato. Meno male, raga. Meno male, meno male, meno male. Mi faccio intanto per incominciare la bombola a scudo per rifullarmi lo shield. Intanto mi faccio questo qui, il medinebbia e mi prendo l'altro. Così direi che siamo a cavallo. Anzi, vi dirò di più. Passo per la tempesta, tanto chi se ne frega abbiamo cure a non finire. Così non rischiamo fight. Ci saranno scorte d'acqua che ti cureranno. Cioè, pare che ci sarà talmente tanta siccità a questo punto che l'acqua addirittura curerà la vita. Pazzesca sta cosa. Meno che non è inteso che l'acqua ti cura solo quando stai dentro la nuova tempesta che è questa sorta di tempesta calda. Allora lì potrebbe ancora aver più senso ma ci può stare in tutti e due casi. Ricordatevi ragazzi che tante volte le notizie vanno un attimino interpretate e magari lì per lì non le capisce quindi devi cercare di capire effettivamente cosa accadrà. Tornerà il viceversa ma qui vi dico che era stato tradotto male. Più che viceversa torneranno quella sorta di pistazioni dove si potevano craftare le armi che non mi dispiacerebbe in realtà eh. Il crafting delle armi ragazzi a me è sempre piaciuto abbastanza quindi la reputerei una cosa positiva se tornasse effettivamente nuovamente in game con ovviamente potenziamenti vari eccetera eccetera ma perché sempre quando tolgo le mani dal pad mi sparano ragazzi c'è c'è c'hanno un timing in timing i miei avversari incredibile e poi ragazzi per concludere un attimo il discorso mentre mi sparano ci saranno nuovi consumabili durian ananas e moch moch non lo so e quindi tante novità tante cose nuove che però molte vanno ancora un attimino interpretate nel senso che non sappiamo ancora effettivamente cosa ci dobbiamo aspettare con precisione che ho provato a fare e niente mi sparano da lontano anche ok però mi hanno sparato da lontano e questa cosa non mi è piaciuta per niente tra l'altro non abbiamo più shield per provare a curarci però vorrei capire un attino da dove mi hanno sparato ah vediamo un po' se ah no quello è il corpo regà vabbè no si oddio ho contrassegnato un nemico però ah sta lì sopra è infamotto che non sei altro è la sopra bella la vita eh e vabbè e vabbè anche una buona mira tra l'altro quindi regà fatemi sapere la vostra sotto con un commento io intanto me la campero qui aspettando che arrivi questo qui perché tanto è rimasto lì in alto e forse neanche mi pusherà ma rimarrà lì in alto fatemi sapere cosa ne pensate sia delle notizie dell'evento finale che le notizie per quanto riguarda la prossima stagione vi ricordo che potrebbero tranquillamente essere tutte bufale perché appunto si tratta di una fonte anonima però diciamo che il tutto calza talmente bene le teorie sono talmente tanto interessanti che ho deciso di farci un video anche perché solitamente quando delle cose così interessanti e che calzano così bene col tutto sono riportate da delle fonti anonime solitamente sono fonti che non vogliono far sapere chi sono per non rischiare posti di lavoro per esempio qualcuno di epic o di fortnite per meno se lavori per fortnite lavori per epic quindi potrebbe essere la stessa cosa e quindi ecco ragazzi attenzione attenzione perché potrebbe effettivamente essere tutto real poi ribadisco alcune cose potrebbero essere state interpretate male cioè quando vi riportano una notizia così com'è e voi non avete chiara tutta la situazione sicuramente potrebbe essere un po' distorta però ecco sembra tutto molto 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 interessante e anche se dovesse essere effettivamente così cosa ne pensate voi potrebbe ma questo sta dentro il cescuglio no si sta curando tantissimo ragazzi ah devo ricaricare anche perché gli avevamo fatto parecchio male e niente col pump non ci piglio oggi no mi distrugge con la mitraglietta mi distrugge no ci siamo uccisi a vicenda c'aveva anche la corona raga mi ha distrutto con la mitraglietta incredibile se l'avessi preso mezza volta in più col pump ce l'avrei fatta peccato mi ha distrutto con la mitraglietta detto questo ragazzi ribadisco fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate vi ricordo ovviamente anche il codice creatore ggy psilonti tutto grande tutto attaccato il negozio oggetti di fortanette fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non si è fatto lasciando un bel mi piace fatemi sapere sotto nei momenti cosa ne pensate se avete qualche teoria ancora più interessante per me è tutto ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzi